Oggi c'è una bellissima giornata, ma noi non ce ne frega un cavolo perché tanto siamo in quarantena Oggi è il 20 marzo 2020 e questo video lo vedrete il 20 marzo 2020 Io sto facendo colazione One day, io sono barbuto ma non ho la barba In merito a questi cereali, su TikTok ho creato una challenge che ha spopolato e sta spopolando Faccio milioni di visualizzazioni semplicemente tirando i cereali in bocca E dicendo delle frasi senza senso E il commento che dicevo più spesso è farli durare di più Quindi oggi ho detto ok, facciamoli durare di più E quindi ho detto ok, facciamo un video su YouTube perché l'unico modo è quello Mi sa che su TikTok i video durano massimo un minuto Colazione è finita La chiameremo un cereali challenge anche perché non è un nome, non lo so, io un giorno ho preso e l'ho fatta Commentate un nuovo video con un nuovo iscritto se siete dei nuovi iscritti Io vi metto il cuoricino e do il benvenuto Spettacolo family di pazzi Eccola, eccola King del cereale è proprio qua Tanti mi chiedono se faccio pubblicità e cerco Crave No Mini skate C'è il reale E siamo pronti Ovviamente ferpa pettacolo Chi guarderà questo video lascerà like e si iscriverà Subito proprio così a primo colpo Secondo il cereale Sapete qual è il brutto di questa challenge? Che se non entra in bocca puoi raccoglierli È un casino perché finiscono ovunque Durante questa challenge mi piace tanto insultarmi Quindi sono un caso umano Non è entrato E non è finita per terra incredibile Pepito non è un riccio Se finisco nella felpa è un casino Quindi Pepito è un riccio Davvero un riccio Visto che siamo in tema avrò il coronavirus Let's go Che petacolo Niente coronavirus per perduto Senza la barba Sono stato adottato Mamma mi devi dire qualcosa? Durante questa quarantena diventerò un ciccione Con i cereali Mi sa che lo sono già Stanno entrando tutti Ormai sono un campione a questo gioco Non so quanto sia bello Visto che mi sto solo insultando In realtà Sono Un fallito Non era entrata Non era entrata Lo giuro Mi vesto malissimo Ovviamente mi vesto benissimo Guarda qua Petacolo Petacolo sempre Anche in quarantena Ma per chi se lo stesse chiedendo Ho una mano con le unghie viola E l'altra no Perché di qua sono venute via E di qua no E sono rimasta ancora dal video precedente Quello dove mi trasformo in una donna Per venti quattro Presto avrò un figlio Nessuno ha visto niente Cavolo poi mi tocca raccoglierli tu Stare sul divano è uno sport Allora è vero Ma dove sono i miei muscoli? Questa challenge non è divertente Allora si continua Questi cereali Non finiranno mai Che problema c'è? Ne compriamo ancora? Chi guarderà questo video Mi farà un complimento Nei commenti Insultatemi Me lo merito Questa quarantena Mi sta facendo del male Non è vero Sto benissimo Sono Un bel ragazzo Un po' però Un po' Tutti questi li raccogliete voi? Spettacolo ragazzi È stato un video rapido Un video veloce Spero comunque di avervi strappato una risata Sto cercando di fare del mio meglio Per portare più contenuti possibili Intrattenervi E farvi passare questa quarantena al meglio Sfruttiamo questa bella giornata Per fare l'ultimo pezzettino di video Qua sul balcone Mi raccomando Scrivetemi delle frasi da dire nel prossimo video Che sia qua su youtube O che sia su tiktok Le più originali le prenderò Ci vediamo a un prossimo video Ovvero domenica Perché ogni mercoledì Ogni venerdì E ogni domenica Esce un nuovo video Qua sul mio canale Barbuto senza la barba Vi saluta Spettacolo Sempre Ciao Ciao